Il terzo concorrente di oggi sarà Kysiuk Nazzarli, di 26 anni, proveniente dall'Ucraina. Eseguirà in ordine i secondi brani. Come primo, eseguirà Alemanda, Davo, Corrente e Davo Presto, dalla prima partita in sì minore di Joan Sebastian Bach, successivamente di Camillo Simboli, da Studio Capriccio numero 9 per Viardino Solo, dai 12 Studio Capricci, opera 25, in revisione di Fulvio Luciani, in seguito di Rodolfo Lipitzer, da Studio numero 18, variazioni, moderato, allegro rivace e allegro brillante, con arcate e diteggiatura originali, e infine di Wolfpack Amadeus Mozart, accompagnato dal pianista, il concerto del re maggiore KV218, del suo movimento, in cadenza di Auer. Grazie. 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 Grazie.